Proverete una sintesi sul nome, per Milano, anche magari per Bologna? Io credo ci siano tutte le condizioni per poterlo fare e anche in questa occasione il centro-destra dimostrerà, a differenza del centro-sinistra, di arrivare preparato agli appuntamenti elettorali con una coalizione ampia, poesa e che condivide la sfida, la sfida che è alle forze del centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle. Senta, al partito unico, diciamo, a voi non convince siete fuori secondo Berlusconi, ma non può essere invece un progetto per rimettere insieme? No, guardate, noi non eravamo convinti neanche sull'ipotesi di federazione di alcuni partiti del centro-destra, figuriamoci che siamo convinti su un'ipotesi di partito unico, che credo che comunque non ci sarà. Noi crediamo che il centro-destra debba essere un'alleanza coesa, ma che debba dar spazio alle tante sensibilità diverse che ci sono. Noi siamo leali ai nostri alleati, ma ci sono tante posizioni che noi ne condividiamo. Noi guardiamo il Partito Popolare Europeo, altri leader, legittimamente, guardano ad Orban e all'Alepen. Insomma, delle differenze ci sono, mi sembra evidente. Buon lavoro.